Pesantissime le accuse che vengono mosse a un giovane di 27 anni della provincia di Caltanissette e a un 35enne della provincia di Vicenza, arrestati e condotti in carcere dai carabinieri. Violenza sessuale su minore, pornografia minorile aggravata e detenzione di materiale pedopornografico. Una vicenda che affonda le sue radici nel mondo online. Nel 2021, infatti, la madre di una minorenne di Torino aveva presentato una denuncia, sospettando che la figlia fosse stata adescata da alcuni pedofili proprio su internet. Uno dei due indagati, infatti, aveva finto inizialmente di essere donna, avviando con la minorenne una conversazione sulla chat di un gioco online, per poi spostare le chiacchierate sul servizio di messaggistica WhatsApp. L'indagato si sarebbe dimostrato gentile e comprensivo per arrivare a ottenere la fiducia di colei che, secondo l'accusa, considerava di fatto come una preda, per passare così alla richiesta di inviargli foto e video intimi di lei e del fratellino più piccolo. Nel frattempo, anche un altro indagato sarebbe entrato nel perverso gioco. La madre della giovane aveva però notato tutto, controllando le conversazioni su WhatsApp, e si era quindi rivolta ai carabinieri del capoluogo piemontese, i quali sono riusciti a risalire ai presunti responsabili, eseguendo anche perquisizioni e sequestri in varie zone d'Italia. La procura ha quindi chiesto al GIP l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'indagine non è ancora chiusa e potrebbero esserci nuovi sviluppi. Saranno il resto degli accertamenti e l'eventuale processo a chiarire le eventuali responsabilità dei due arrestati e anche il sospetto coinvolgimento di altre persone.